Sindaco D'Alberto, insomma un comunicato abbastanza pesante sotto l'aspetto politico, forte critica verso il Governo regionale, ma soprattutto credo un invito altrettanto forte per i compagni di viaggio che dovrebbero intraprendere con lei questo percorso. Sì, siamo nella fase della costruzione dell'alternativa all'attuale Governo regionale. Il lavoro che è stato svolto finora, a partire dall'iniziativa di Teramo, ma soprattutto con l'attività messa in campo dai consiglieri regionali di opposizione, con il tavolo costituito il 21 luglio, ha svolto un buon lavoro, così come si è svolto un buon lavoro programmatico, ma ora è il momento appunto di concludere questa attività e di sottoscrivere il patto con l'Abruzzo e per l'Abruzzo dell'area progressista, riformista del centro-sinistra che coinvolga movimenti e cittadini e soprattutto tutte le forze, tutte le esperienze civiche della nostra regione. Ecco perché è necessario che ci sia un'apertura forte tra i gruppi partitici, quindi allargare il perimetro dalle forze partitiche alle forze civiche che stanno dentro questo percorso e svolgono un ruolo fondamentale per poter vincere una partita difficile ma che è apertissima e la vinciamo se tutti insieme ci mettiamo in campo e tiriamo fuori anche le logiche personalistiche o le logiche degli equilibri politici nazionali e pensiamo all'Abruzzo. Ecco è molto importante che la decisione venga assunta in Abruzzo e che si individui un candidato in tempi strettissimi che tenga insieme questo patto con l'Abruzzo e per l'Abruzzo, candidato riconoscibile, apprezzato dagli abruzzesi, un candidato che crei entusiasmo ma che si decida qui, che sia il candidato dei territori. Sindaco, a prescindere dai regolamenti che poi saranno ovviamente valutati per quel che riguarda le candidature, le chiedo così perché da fuori provincia arriva un po' questo sentore. Gian Guido D'Alberto è pronto per scendere in campo o pensa solo ed esclusivamente al bene del suo gruppo politico e soprattutto della sua termo in questo momento? No, il mio ruolo in questo momento dal punto di vista politico è un ruolo di aggregazione di tutte le esperienze civiche, le forze civiche che vogliono far parte di questo percorso importante per costruire un Abruzzo diverso nei prossimi cinque anni. I presupposti ci sono e la mia presenza è segno anche dell'importanza del lavoro che si è fatto a Teramo. Teramo è un modello di riferimento di questa aggregazione, di questa capacità aggregativa di forze civiche e politiche come in altre città che può e deve essere replicata a livello regionale. Io sono il sindaco di Teramo, sarò il sindaco di Teramo e resterò il sindaco di Teramo ma come sindaco di Teramo ho intenzione di svolgere un ruolo costruttivo insieme a tutte le altre forze civiche del territorio regionale per costruire una prospettiva diversa per la nostra regione e dare un supporto costruttivo alla coalizione di Abruzzo Insieme che sta nascendo.